Buongiorno a tutti, da Zebra, popolo bianco nero, volevo rindossare la nostra maglietta, mi manca, mi manca, mi manca, mi manca, mi manca, mi manca. Allora ragazzi, prima di continuare, come sapete, sosteniamo questo canale con l'iscrizione e attivate anche la campanellina. Dai ragazzi, dai, tutti insieme. Allora ragazzi, voglio parlare di Rabiot, sappiamo tutti che ieri Rabiot con la partita contro l'Australia, con la sua nazionale francese, ha fatto la differenza, dobbiamo dire la verità, perché comunque andando a segnare il primo gol della Francia, poi andare a fare anche un assist e comunque al centrocampo non si è comportato alla fine, dopo il ventesimo parliamo, non si è comportato proprio male male male. Quindi continua questa crescita di Rabiot. Ora, sappiamo che i Rabiot sono da qualche mese che è in crescita, però ragazzi, dobbiamo ancora capire se è un momento o effettivamente è un cambiamento. Quindi o un momento o un cambiamento. Però dobbiamo anche vincere da tutto ciò, ragazzi, andiamo a entrare nel discorso, nel vivo del discorso. E anche se sta, come posso dire, anche se lui sta mostrando, anche se lui sta mettendo in campo questi tipi di prestazioni, ma all'effettivo ci piace? Cioè, a me, personalmente, io parlo, mi chiedo, ma mi può bastare questo Rabiot? E soprattutto, raga, che credo che sia la cosa più importante in questo momento, visto che Rabiot sta andando a scadenza, si parla di un contratto, eventualmente, a rinnovo di stipendio a 10 milioni di euro. 10 milioni di euro, ragazzi, netti, non lordi, netti. Che a lordo, quasi 20 milioni, qualcosa di meno. Ma siamo lì. Allora, questa domanda io la rivolgo a voi e commentate, commentate, perché sono curioso di sapere, ma voi rinnovereste mai un contratto così oneroso a Rabiot? Io, anche vedendo queste prestazioni, beh, personalmente, no. Io non lo rinnoverei mai. Perché, ragazzi? Io credo che se uno è campione, e non lo è lui. Se uno è un ottimo giocatore, per me non è lui. È un buon giocatore, sì, è lui. Buon giocatore. Né campione, né ottimo giocatore. Ma è un buon giocatore. Per me lui fa parte della categoria. Buon giocatore. Può dare di più? Forse sì. Però se, ragazzi, ormai non è più un ragazzino. E se siamo arrivati adesso a dire può dare di più? Beh, è grave. È grave, ragazzi. Soprattutto con la Juventus, lui, in tre anni, non ha dato un cazzo. Niente! Niente ha dato, ragazzi. Allora. Dieci milioni di euro? Vogliamo rischiarli? Tu fai all-in? Che poi dieci milioni di euro, ragazzi. Non per un anno. Sicuramente li andranno a fare, eventualmente. Io spero di no, ma non credo. Credo che non glielo rinnoveranno. Spero, ripeto. Almeno per tre anni altri. Tre. Non credo che lo faranno a cinque. Non ci credo. A tre. Barra quattro, eventualmente. Aggiungimento bonus, cose varie. Stiamo parlando solamente di netto 40 milioni. Cioè, questi si giocano 80 milioni per Rabiot. No, ragazzi. Io non ci credo. Io non ci credo, ragazzi. Io, anche ripeto, con queste sue prestazioni, io a lui il contratto non glielo rinnoverai mai. Ma mai, poi mai. Neanche morto. È la verità. È la verità. Quindi, io, se fosse per me, ok, buono. Ce lo portiamo a fine stagione. Speriamo che continui così, cosa possa portare alla Juventus qualcosa di positivo. Ma rinnovarli a quelle cifre, eventualmente, per me è sbagliato. Perché non si sa. Non lo so. Ho paura che comunque. Di nuovo. Perché se uno è campione, è campione, ragazzi. Se uno è un ottimo giocatore, è un ottimo giocatore. Lo dimostra. Può avere momenti di cali, ma non tre anni. Non può durare tre anni. Quindi, ragazzi, fatemi sapere come la pensate voi. Come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale. Attivate la campanellina. E ci vediamo alla prossima. Ciao!